Volevo fare l'amore con Filippa, non vedo l'ora di sposarla Daniele Bossari e l'incontro con Filippa Lagerbach, il conduttore voleva fare l'amore con la sua donna. Nel corso della semifinale, Daniele Bossari ha potuto riabbracciare e baciare la sua Filippa Lagerbach. I due stanno insieme da 17 anni e insieme hanno anche una splendida figlia, Stella. In ogni caso, la proposta di matrimonio da parte del conduttore non era ancora arrivata. . All'interno della casa più spiata d'Italia, l'uomo ha capito di amare follemente la sua compagna e di volerla finalmente sposare, facendo anche un altro bambino insieme. . Di fronte a tali dichiarazioni, il grande fratello Vip ha voluto dare una mano al concorrente. . Nel corso della diretta condotta da Ilari Blasi, il finalista del reality show ha incontrato la sua amata, davanti la quale si è inginocchiato chiedendole di sposarlo. . Lei ha detto di sì e così ora non ci resta che attendere maggiori news riguardo queste nozze. . Grande fratello Vip, Daniele Bossari e l'incontro con Filippa Lagerbach. . Tutto il pubblico del grande fratello Vip ha notato l'entusiasmo di Daniele Bossari nel rivedere Filippa. . Lui le ha letteralmente saltato addosso e i loro baci hanno senza subio alzato la temperatura. . Oggi, scopriamo cosa stava provando in quell'istante il conduttore. . 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